Buongiorno a tutti, pace e bene, siano lodati Gesù e Maria. Buon martedì 20 febbraio. Io sono venuto in chiesa a salutare Gesù e la Madonna e affidare a Gesù e alla Madonna, al mio angelo custode, questo viaggio che farò oggi, tra poco vado a prendere il treno per andare a Roma, dove ormai, penso che lo sappia tutto il mondo, alle 17.30 c'è l'appuntamento alla Libreria San Paolo, in via della Conciliazione, proprio quasi vicino alla Basilica di San Pietro, per il firma copie del nuovo libro Le Vie di Maria. Oggi, come preghiera, per affidare alla misericordia di Gesù e all'amore della Mamma Celeste, vorrei pregare insieme a voi il Salmo 33. La parola di Dio per noi cristiani deve essere ogni giorno, il pane quotidiano. Ecco, se è vero che Padre Pio diceva, chi prega si salva, e quindi chi prega diventa forte, chi prega trova la pace, chi prega riesce ad affrontare la quotidianità, è vero anche che chi si nutre della parola del Signore può camminare al sicuro perché sa che quella parola è verità, e quella parola è fonte di ispirazione, quella parola è fonte di consolazione. Più ci accostiamo alla parola del Signore e più abbiamo la forza e la capacità di imitare Gesù. Allora ripetete insieme a me. Chi spera nel Signore non resta deluso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto. E da ogni mia paura mi ha liberato. Chi spera nel Signore non resta deluso. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. Chi spera nel Signore non resta deluso. Gli occhi del Signore sui giusti. I Suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori. Per eliminare dalla terra il ricordo. Chi spera nel Signore non resta deluso. Gridano i giusti e il Signore li ascolta. Li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Chi spera nel Signore non resta deluso. E ora vi dono la santa benedizione. E tutte le volte che avete un momento difficile, riprendete questo salmo. E dite a voi stessi, nel vostro cuore, ripetetelo. Chi spera nel Signore non resta deluso. E oggi vi raccomando di pregare tanto. Di pregare per me, di offrire le vostre sofferenze. Ma di pregare anche per tutte quelle persone che sono davanti ad un muro. E che non trovano forza, speranza. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Santa giornata a tutti. E vi mando un abbraccio fraterno e un bacio. E ricordatevi sempre che siamo nel cuore di Gesù e di Maria. Grazie.